Prima di passare la parola a Marco, volevo solo ricordare ai nostri ascoltatori che se vogliono rivedere tutti i nostri incontri, li possono trovare su www.omeomundi.com nella sezione eventi e nella sezione webinar gratuiti invece troverete il calendario degli eventi prossimi, quelli che abbiamo in programma. Quindi detto questo, passo la parola al dottor Franceschini per i saluti, poi Marco ti devo chiedere alcune cose, quindi eccoti, benvenuto. Buonasera a tutti e benvenuti. Allora Marco, ci hai spiegato negli incontri precedenti che appunto tra le tante cose che forse non è possibile non sognare, piuttosto che i sogni che si ricordano o non si ricordano, le funzioni del sogno, la compensazione dell'iperfunzionamento dell'io. Insomma, adesso cosa ci vuoi raccontare? Innanzitutto volevo completare il tuo riassunto, voglio solo ricordare che tra le varie funzioni del sogno abbiamo visto quella appunto di compensare l'iperfunzionamento dell'io perché viviamo in una realtà dove utilizziamo in maniera eccessiva l'aspetto razionale della persona e in questo senso il sognare ha una funzione addirittura di garantire il benessere psicofisico abbiamo visto che poi i due emisferi si sincronizzano soprattutto nella fase molto profonda del sogno quella dove il cervello funziona ad onde delta, molto led, dava una interpretativa del sogno meno analitica e dove la funzione del sogno era prevalentemente quella di soddisfare i desideri prevalentemente anche desideri sessuali. Abbiamo visto che i sogni hanno anche una funzione traumatolitica una funzione prospettica, estetica eccetera eccetera. Ora oggi, questa sera invece volevo proporre qualche lettura di qualche sogno e proprio per vedere in pratica come possono essere trattati i sogni. Ho scelto per esempio un sogno per iniziare, un sogno che fece Jung, Calgus Jung, che è il padre della psicologia analitica, visto che io vi ho parlato della differenza tra interpretazione dei sogni e analisi dei sogni. Esatto. Ecco, sì, e quindi proprio per comprendere meglio qual è la differenza credo che sia il caso a questo punto di raccontare qualche sogno. Io partirei appunto da un sogno di Jung. Faccio solo questa premessa. Jung, nato in Svizzera, era studente di medicina a Basilea e ad un certo punto, quando ancora era studente, doveva decidere che tipo di strada prendere nella vita, cioè se fare una carriera, quale tipo di carriera professionale fare, per esempio quale specializzazione prendere, se psichiatria o altre specializzazioni. Un'altra premessa importante è che Jung all'epoca aveva in qualche modo l'idea di dividere la sua personalità in due parti, la personalità che lui chiamava la personalità numero uno e la personalità numero due. Cioè, la personalità numero uno, Jung, in questa personalità, lui si riconosceva come uno studente, lo studente di Basilea, uno che amava leggere i romanzi, e poi la personalità due era quell'aspetto della sua personalità vocata all'aspetto più spirituale della persona, al suo desiderio di approfondire aspetti anche religiosi, no? Ecco, però approfondire la personalità due voleva dire in qualche modo, non dico abbandonare, ma insomma, sì, insomma, abbandonare la carriera di medico. Perché questo? Perché comunque il padre era un prete, un protestante, quindi lui aveva questo condizionamento, aveva questa anche vocazione a conoscere, ad essere curioso, no? Delle religioni in generale. Ecco, aveva quindi questo conflitto fisiologico in cui lui viveva, a quel tempo, quando doveva prendere una decisione molto importante per il suo futuro, per la sua carriera. Fece diversi sogni, ma alla fine io mi sono concentrato sull'ultimo sogno perché, innanzitutto perché è breve, e poi perché ci fa capire quale potrebbe essere la funzione del sogno. Bene, allora, questo sogno inizia dove Jung si trovava in un luogo sconosciuto. In questo luogo sconosciuto c'era la nebbia, quindi questo è un fatto importante. E lui procedeva a stento perché mentre camminava in questo luogo sconosciuto, c'era un vento contrario, un vento molto forte, che quindi lui, e teneva con una mano un lume, con l'altra mano proteggeva questo lume affinché non si spegnesse, no? Per via del vento. E poi vide un'ombra molto grande e lui ebbe la percezione che fosse un'ombra minacciosa. Poi, quando si svegliò, però, poi si rese conto che quell'ombra era stata creata dal lume stesso, no? Che lui portava con una mano. Ecco, quindi, io vorrei sottolineare solo qualche punto. Innanzitutto, partiamo dall'analisi del sogno. Ecco, nell'analisi noi possiamo innanzitutto osservare che c'era la nebbia. E la nebbia è la metafora di quello del luogo psichico che stava vivendo Jung. Cioè, la nebbia non ti fa vedere, giusto? Ti fa vedere male. Beh, lui infatti non vedeva, cioè aveva un conflitto riguardo la sua prospettiva, la sua scelta della carriera professionale, giusto? Quindi, la nebbia già in qualche modo traduce, ecco l'analisi, ecco la traduzione di un vissuto in immagine di cui io avevo accennato. La nebbia è un'immagine che traduce il vissuto che stava vivendo in quel momento. Il vento contrario che lui doveva affrontare, riparando soprattutto il lume. Ecco, il vento contrario, se il vento rappresenta da sempre anche il simbolo, è un aspetto spirituale, no? Lo spirito, il soffio del vento, e quindi è un'energia maschile. Ecco, quindi il vento contrario rappresenta il suo conflitto. Lui andava in avanti, il vento contrario si genera questo conflitto, cioè devo andare indietro, devo andare avanti, eccetera, eccetera. Ma anche, e poi, questa lombra che veniva ovviamente provocata da lui stesso. Ecco, che vuol dire? Vuol dire innanzitutto che quando noi, per esempio, abbiamo un'idea e ne abbiamo coscienza, dobbiamo fare i conti con degli aspetti sempre in ombra, no? Così come il sole provoca l'ombra, così la nostra coscienza ha sempre un'ombra. Ecco, questo è il paradosso, la luce che crea l'ombra. Comunque, da questo sogno, Jung che cosa deduce? Deduce innanzitutto che la personalità uno, cioè lo studente, il medico, era la personalità che portava in mano il lume che faceva la luce. E l'ombra che lo minacciava nel sogno era la personalità numero due, cioè la personalità vocata allo studio delle religioni, degli aspetti più spirituali, eccetera. Ecco, a seguito di questo sogno, dove lui faceva i conti, sia con la parte più cosciente, con l'io cosciente, e con la sua ombra, cioè l'aspetto, la tentazione di invece seguire la personalità numero due, cioè quell'altro desiderio, quell'altra vocazione lì. Ovviamente lui scelse di seguire l'indicazione del sogno e per lui, ovviamente dopo l'analisi, lui l'ha interpretato, quindi lo ricordo, l'interpretazione è mettere il sogno al servizio della realtà. Quindi spero che questo ora sia un po' più chiaro. Cioè lui, grazie a questo sogno, oltre all'analisi, analizzare la nebbia, la metafora, il lume, l'ombra, quindi questa è l'analisi intrapsichica, poi ha avuto seguito anche la sua interpretazione, con la quale ha preso una decisione. Quindi questo vuol dire mettere il sogno al servizio della propria realtà. e quindi ha deciso di seguire l'indicazione del sogno e quindi di fare una carriera medica. E qual è invece interessante sottolineare? Che cosa ci facciamo con l'aspetto in ombra? Che comunque nel sogno c'era, no? L'ombra del lume. Ecco Marina, qui possiamo dire che lui aveva intuito una cosa importante che oggi, insomma, io ci faccio i conti quasi quotidianamente quando una persona mi chiede che quale decisione deve prendere, no? Ecco, Jung aveva intuito che la personalità 2, cioè quello che è l'ombra nel sogno, in qualche modo va integrata, perché noi non possiamo scenderci dai nostri ladi d'ombra. Quindi questo che cosa voleva dire? E questo Jung l'ha realizzato nel corso della sua vita in maniera anche molto molto approfondita. Ecco, lui ha seguito la carriera di medico, di psichiatra, ma ha integrato l'aspetto in ombra, cioè quella vocazione ad approfondire, no? Lo studio delle religioni e questo è ciò che fece. Jung, quindi, mentre si faceva il suo internato di psichiatria, ha iniziato a studiare su testi di religione, la storia delle religioni, successivamente l'alchimia. Ecco, quindi lui che cosa ha fatto? È riuscito ad integrare quegli aspetti molto particolari, culturali, e li ha in qualche modo integrati alla sua carriera, al suo percorso medico. Quindi è diventato uno psichiatra che ovviamente ha capito che per comprendere la psiche, i processi psichici, poteva essere utile approfondire la storia, i miti, l'antropologia, l'alchimia, come gli suggerì il suo amico Wolfgang Pauli, che fu premio Nobel per la fisica quantistica. Ecco, quindi, vedi Marina, oggi invece la maggior parte delle persone tendono a fare una scelta o un percorso o un altro. Jung con questo sogno e con la sua vita ci ha insegnato che l'ombra va integrata per essere interi, per essere veramente se stessi. Non l'ha abbandonata, l'ha integrata al suo percorso principale, quindi l'ombra ha arricchito il suo percorso di medico e psichiatra. Aggiungo, oggi alcune persone, soprattutto ragazzi e genitori che vedo dei ragazzi, hanno di fronte spesso questo dilemma, no? Perché? Perché magari fanno una scelta dando retta, tra virgolette, alla personalità 2, no? Nel senso che magari un ragazzo è predisposto per lo studio di, per esempio, dell'arte. Ecco, e a volte si trova a fare una scelta, come dire, magari si segna l'università, segue la strada dell'arte che però magari non gli dà il lavoro, ok? Ecco, questo perché? Perché si tende ad escludere, no? È come dire che ascolto la mia anima e non il mio io. Secondo me bisogna invece fare come ha fatto Jung, integrare, nel senso iscriversi ad un'università che ti può, non dico garantire, oggi non ti garantisce nessuno, ma avere più probabilità di lavoro e approfondire quell'aspetto che desideri, che può essere l'arte, la musica, no? Mi ricordo un ragazzo che per seguire il suo desiderio di approfondire lo studio dell'arrangiamento musicale si iscrisse all'università inglese, e però purtroppo gli andò male. Ecco, quindi io invece gli consigliai di intraprendere una strada più solida e allo stesso tempo, in parallelo, approfondire anche l'attività musicale. Allora Marina, se c'è tempo, abbiamo pochi minuti, io volevo anche però parlarvi molto brevemente di un altro brevissimo sogno. Sì, volevo chiederti, ma non hai qualche altro sogno, magari che ne sto prendendo spunto da qualche paziente, qualcosa che sicuramente ti racconteranno i sogni? Volevo raccontarvi un sogno, ma in realtà è un'immagine, perché questo sogno, ecco, è la testimonianza di quello che Jung chiamava l'inconscio collettivo. Allora, questo sogno è di una ragazza di circa 30 anni, questo sogno l'ha fatto, diciamo, poche settimane fa, insomma, sognava due scorpioni, ha sognato due scorpioni, ok? Allora, in realtà io ho preso il mio dizionario dei simboli e ho in qualche modo analizzato, quindi non ho interpretato. Ecco, questo è un esempio di analisi e non di interpretazione, perché ho preso sul dizionario dei simboli lo scorpione, quello che per le varie culture, per le varie culture, di tutto il mondo, anticamente, voleva significare. Ho fatto una sintesi e ho visto, ho notato che nelle varie culture, nei vari paesi, quindi America, Europa, Asia, eccetera, questi popoli antichi davano più o meno lo stesso significato. Questa è la testimonianza che l'inconscio collettivo evidentemente esiste, ma non è solo questo l'esempio, no? Cioè, i vari popoli gli davano lo stesso significato, ma non è che tra loro si sono messi d'accordo. Perché, insomma, più di mille anni fa non avevamo né Zoom né WhatsApp. Insomma, lo scorpione può rappresentare la violenza, l'odio, la vendetta, il veleno, che poi, il veleno, è anche un farmaco, no? Nella giusta dose, come sappiamo. L'aspetto bellicoso e anche l'aspetto sadoanale. Bene. Allora, questa persona è una persona che, questo sogno me l'ha portato al secondo o massimo terzo incontro. Nella seduta precedente a questo sogno mi parlò del suo lavoro, del suo malessere e soprattutto lei fa la commessa in un negozio che vende articoli per donne. Non dico ovviamente dove, non posso ovviamente fare i nomi neanche del negozio. Non è necessario. Ma, per farla breve, mi raccontava che entravano donne, insomma, un po' maleducate, un po' pesuntose, e lei si infastidiva e per vendicarsi le faceva aspettare prendendo tempo. Magari lei prendeva tempo o magari prendendosi cura magari di una di una cliente eccetera per far aspettare più a lungo la cliente maleducata. Insomma, si stava vendicando. La seconda volta, l'incontro successivo porta questa immagine, l'immagine dello scorpione. Ecco, questo è l'approccio soggettivo, no? Io vi avevo parlato dell'approccio soggettivo e dell'approccio oggettivo. Questo è un approccio proprio soggettivo, nel senso che lo scorpione è un aspetto con cui lei può fare i conti. cioè ovviamente io le ho restituito queste caratteristiche, queste dello scorpione e quanto lei le riconosceva queste parti, no? Che in realtà erano in ombra ma le viveva di fatto senza rendersene conto. e quindi ora grazie allo scorpione lei può confrontarsi con il proprio odio, con i propri modi di vendetta, con la violenza, che era tutto era tutto sommerso. Infatti la caratteristica che ha molta paura, ha molta paura di sbagliare e ha paura anche del giudizio perché teme che questi aspetti possano venire fuori ma poi in realtà poi agisce. Ecco. Quindi portano un contributo a come affrontare anche la vita quotidiana. Sì, per esempio la vendetta che viene percepita come qualcosa di negativo ovviamente in genere noi non diamo un'accezione positiva al termine vendetta eppure esiste eppure è funzionale perché sì, perché ci può essere che nella vita uno si possa vendicare quando è giusto farlo ma non per questo poi uno si deve sentire cioè identificarsi in un tipo vendicativo dipende come utilizziamo la vendetta e così anche l'odio perché lo scorpione significava e significa anche bellicoso per esempio e veleno quindi questi aspetti sono tutti aspetti utili vanno riconosciuti per poi essere modulati e contestualizzati in maniera vantaggiosa diventano pericolosi e lo sono quando sono in ombra e la nostra coscienza li rifiuta totalmente perché tutti a quel punto uno agisce senza rendersi conto oppure sviluppa delle malattie ovviamente malattie psicosomatiche per esempio mi viene in mente la banale diffusissima castrite la castrite è l'acido con cui noi anziché utilizzarlo magari per squagliare qualcosa o qualcuno lo utilizziamo in maniera eccessiva verso noi stessi cioè allora il simbolo dell'acido è aggredire e io dico aggredire la vita cioè quindi aggredire vuol dire anche trovare delle soluzioni quindi essere in grado di trovare delle soluzioni altrimenti è facile anche però spesso non le cerchiamo quindi non le troviamo perché abbiamo magari paura di sbagliare abbiamo paura di essere giudicati quindi meglio una castrite piuttosto che affrontare un giudizio di qualcuno ecco quindi bene Marina io penso che non c'è il tempo di analizzare un altro sogno non so magari preferisco dare 5 minuti spazio a qualcuno se volesse formulare una domanda sì allora stanno guardando intensamente con molto interesse però al momento probabilmente è stato eccola qua Raffaella buonasera quindi gli aspetti in ombra una volta una volta messi in luce possono diventare alleati preziosi possiamo affermare questo sì assolutamente sì sono alleati ma se non altro perché fanno parte della psiche sono dei io li chiamerei colleghi preziosi per esempio mi viene in mente sogni dove spesso appaiono i colleghi di lavoro ecco il collega di lavoro è un aspetto in ombra che collabora con l'io per costruire no io dico una totalità cioè una personalità più più complessa più ricca più intera quindi assolutamente sono alleati a patto che noi creiamo però ecco quindi questa domanda utile perché voglio aggiungere una cosa importante sono alleati se io riesco ad avere una giusta relazione con questi aspetti in ombra nel senso che non è che il mio io deve sempre essere un arbitro giusto non è che qualsiasi aspetto in ombra in un determinato momento io lo devo accogliere devo sempre valutare quindi se dalla parte mia profonda quindi in ombra si attiva un modo di odio no tornando allo scorpione perché magari mi ferma un poliziotto io sono nervoso rischio un oltraggio una denuncia quindi lì l'odio lo devo controllare cioè quell'aspetto in ombra io la devo modulare al limite sublimare e utilizzarlo quando è utile quindi potenzialmente è una ricchezza ma può essere anche pericolosa se io non so utilizzarla bene questa ricchezza ok quindi per esempio l'odio in alcuni momenti lo posso utilizzare come una funzione un'emozione che mi aiuta a reagire ad una situazione minacciosa per me ok e quindi mi fa prendere delle decisioni che altrimenti non prenderei a tutti i livelli no però devo partire dalla conoscenza dell'ombra di questi aspetti e poi l'aspetto più difficile che lì ci vuole più tempo imparare ad utilizzarle a riconoscerle e a modulare questi aspetti qui per esempio faccio un ultimo esempio la paura di sbagliare è necessaria ma dipende come la utilizzo perché se ho paura di acquistare un immobile beh quella paura cosa mi vuole dire mi vuole dire che devo fare tutti gli accertamenti del caso visure eccetera eccetera no ma se ho paura di in qualche modo semplicemente dire il mio pensiero ad un amico per non essere giudicato da quell'amico beh quella è una paura infondata ho capito passami l'esempio bene ora vedo solo interessati ad ascoltarti sono timorosi di farti le domande vabbè ma lo capisco perché l'argomento poi sai è sempre un argomento diciamo non è molto facile ecco il sogno è sempre sacro va bene Marco io ti ringrazio è stata una bella esperienza questi tre incontri grazie a te Marina mi sono piaciuti tantissimo è stato un piacere anche per me sicuramente e sicuramente in qualche modo a riorganizzare altri incontri io ricordo che siamo sempre su Omeomundi sul sul canale webinar ci sono tutti c'è il calendario con tutti gli eventi quindi anche quelli tuoi saranno messi là e non si perderà nulla insomma ok grazie a tutti grazie a tutti quanti grazie a te e arrivederci alla prossima buona serata buona serata ciao a tutti ciao Marina ciao grazie